Come spiegare a bambini e ragazzi cosa sono il cambiamento climatico, lo sviluppo sostenibile? Per comprendere questi ed altri termini difficili ormai di uso comune, nasce il primo piccolo dizionario della sostenibilità, scritto dall'avvocato specializzata in diritto dell'ambiente, Maria Grazia Chianura. L'ho chiamato piccolo dizionario della sostenibilità e l'insieme di tutte le parole che parlano proprio di questo tema, parole difficili, complesse che però ascoltiamo tutti i giorni e se sono difficili per gli adulti pensiamo che cosa possano rappresentare per i nostri bambini. E così in modo leggero ma concreto ci si imbatte tra pagine piene di disegni e filastrocche e per la comprensione della valutazione di impatto ambientale arriva in soccorso un re che si chiamava Sciocco. Il tema della sostenibilità è un tema che viene affrontato a ogni livello, tutte le scuole hanno dei programmi e dei progetti che riguardano la sostenibilità e allora dobbiamo fornire a bambini e ragazzi uno strumento utile per capire quello che stiamo dicendo. Un dizionario perché capire è il primo passo per iniziare a cambiare e se aveva ragione Joe Strammer che il futuro non è scritto, allora possiamo ancora riuscire a cambiarlo.